Allora grazie a tutti per essere qui, presentazione del nuovo acquisto, abbiamo mandato ieri la nota con la biografia e tutto quanto presentazione ufficiale appunto di Luca Vitali, quindi a destra ho Stefano Mascio presidente che parlerà a iniziare a introdurre un po' come è stata la trattativa, come sono andate le cose e quant'altro poi dopodiché parlerà al coach e poi Luca per dire le sue prime impressioni anche se sono proprio come dire appena embrionale, appena arrivato, quindi a questo punto lascio la parola a Stefano che spiega un po' come sono andate le cose un po' la scelta da parte della società. Sì, innanzitutto io voglio cogliere l'occasione per fare i complimenti alla nostra squadra per il percorso che sta facendo e i successi che comunque stanno ottenendo. Faccio i miei complimenti a coach Finelli e a tutto il suo staff, mi sembra doveroso farli perché alla fine abbiamo preso una marcia che noi ci aspettavamo e che io ho chiesto. L'arrivo di Luca è stata pensata sia da club e dallo staff tecnico, noi quando ne abbiamo parlato con Alessandro abbiamo avuto la stessa visione e pensiamo che Luca sia quel supporto in più che questa squadra ha bisogno sia per le caratteristiche e sia anche per dare più profondità al nostro roster. e poi preferisco che parli di più Alessandro sugli aspetti tecnici e passiamo alla parola. Passiamo a parlare il coach dal punto di vista tecnico, questa scelta è stata maturata e cosa porta? Che cosa aggiunge all'interno del roster e della squadra? Intanto onestamente bisogna ringraziare la proprietà nella persona di Stefano Mascio e della sua famiglia perché credo che sia un bene per la palacanesta italiana avere una proprietà, un club ambizioso che mette denaro e che in questo momento della stagione pensa a essere ancora più competitivo ad alzare leggermente l'asticella e mette a disposizione risorse economiche per poter firmare un giocatore importante quindi questo è un bene, un patrimonio per la palacanesta italiana, proprietari di questo tipo in particolare per Treviglio perché stiamo costruendo qualcosa che vorrà essere importante, che vorrà essere speciale ma come ho detto il primo giorno che sono arrivato per costruire qualcosa non servono solo le parole o le visioni o i sogni o gli obiettivi importanti servono delle azioni e le azioni devono essere quotidiane, umili, concrete, decise dove possiamo imparare delle cose e crescere e quindi diciamo che la realtà di Treviglio in questo momento tutta la provincia, tutti gli appassionati che ruotano attorno al mondo di Treviglio cestistico hanno la possibilità di stare dentro a una piccola bolla che sogna che sogna di poter fare qualcosa di importante in questa stagione e vogliamo creare un'unità di intenti speciale per questo motivo nel momento in cui la proprietà ha identificato il fatto di voler essere sempre più competitivo e crescere per gli obiettivi che ci siamo posti in questa stagione quindi competere per il massimo obiettivo che è vincere il campionato sia alla proprietà, al management che allo staff tecnico tutti quanti insieme abbiamo pensato a un giocatore che potesse arricchire quello che c'è valorizzare quello che c'è non diciamo pestare i piedi a quello che c'è e l'identikit di un giocatore che possa migliorare gli altri che possa migliorare, arricchire senza togliere niente a quello che c'è è Luca Vitali che per primo rappresenta un giocatore che si prende cura degli altri che si prende cura della squadra che considera l'assist la parte più bella del gioco che è playmaker ma è versatile per via del talento e della taglia fisica ed è un giocatore, una persona che conosco da oltre a essere concittadini ho avuto la fortuna di allenarlo in due esperienze nella massima serie con due società diverse in entrambi i casi sono state stagioni esaltanti per cui personalmente non posso che dare il benvenuto a Luca consapevole che ha le qualità umane per poter entrare in punta di piedi che significa rispettare tutto quello che è stato costruito fino ad oggi e la parola che ho usato prima è arricchire noi abbiamo bisogno di un miglioramento come tutti i club, come tutte le squadre e Luca è il giocatore che può portare questo senza togliere niente alle caratteristiche dei giocatori di questa squadra non ci sarà nessuna uscita nel senso che l'ingresso di Luca d'accordo con la società logicamente non è che sono io a decidere questo ma in questo club c'è unità di intenti condivisione di informazioni e poi esce una decisione che è abbracciata da tutti e questa è una cosa bella di questo club è una caratteristica del nostro proprietario il fatto di condividere e decidere insieme non ci sarà nessuna uscita quindi avremo dieci giocatori per affrontare un playoff che consta di tre livelli quarti di finale, semifinali, finali con cinque partite potenziali ogni dieci giorni siccome noi fino ad oggi abbiamo giocato a completo solo con l'Avanoli dall'inizio della stagione abbiamo solo avuto problemi fisici toccandoci simbolicamente toccando ferro dico che è importante avere dieci giocatori per affrontare questa fase come hanno altri club ambiziosi quindi non ci saranno uscite e la versatilità di Luca si inserirà nel contesto di squadra e credo che siamo nelle condizioni per poter lavorare come dicevo prima con umiltà e con efficacia bene lasciamo la parola adesso a Luca appena arrivato le prime grazie le prime impressioni anche se proprio come dire da poco la scelta la scelta della Blue Basket questa nuova sfida della tua carriera sì innanzitutto buongiorno a tutti perché non vi avevo salutato grazie di essere qui comunque fa piacere trovare persone che che vengono ad accoglierti ringrazio Stefano insomma Alex che mi hanno che mi hanno voluto la cosa è stata abbastanza abbastanza semplice con Stefano ci eravamo sentiti anche l'anno scorso penso che sia una persona che ha molta passione che ha una società giovane che ha grande voglia di crescere Alex è un allenatore che ho avuto la fortuna di avere in due occasioni ci conosciamo ci conosciamo molto bene mi piaceva l'idea insomma di di poter giocare ancora per lui perché ho giocato giovanissimo a metà della mia carriera e poter giocare anche alla fine insomma comunque nella parte finale è una cosa che mi stimolava e in più insomma con con Stefano che è una persona che ha che ha grande passione mi piaceva l'idea di ecco di poter dare di poter dare una mano a questo progetto è chiaro che come ha specificato Alex e soprattutto io sarò una giunta quindi mi inserirò in un contesto cercando di aiutare i miei compagni una squadra che sta andando molto bene semplicemente in punta di piedi valorizzando o cercando di valorizzare ancora di più quelli che sono i miei compagni o gli equilibri che questa squadra ha essendo a disposizione della società e ovviamente di Alex per qualsiasi cosa non so se avete domande particolari apriamo le domande se c'è qualcuno o qualche domanda prego ma chi Luca ok la prima è i birilli i birilli è stata messa la claula riguardanti i birilli che è sul primo compito oggi farò un esercizio farò farò esatto esatto a seconda diciamo che c'è un altro momento di questi giorni siamo già cominciati a parlare diciamo subito senza offeso che chi ha avuto che è un altro un altro uomo sono vivo sono stato vivo questi giorni con l'arrivo di Luca come giocatore a Trevillo e con la nuova sua funzione di arritmi responsabile tecnico territoriale del settore di gioco è una scelta che qualcuno ha messo in dubbio la possibilità che potesse essere una funzione che potrebbe essere espletata anche un'unica se vuoi dico io non sono ok adesso prima di rispondere alla tua domanda visto che ho visto passare Brian mi ero dimenticato di dirvi che ovviamente un altro motivo che con piacere mi ha portato a giocare insomma a scegliere questo progetto è appunto l'idea di giocare con tanti compagni con cui ho avuto la fortuna di giocare in carriera alcuni la maggior parte amici quindi tutti i ragazzi che conosco molto bene e quindi questo è stato un altro motivo chiusa questa parentesi allora per me è un motivo di quando ho accettato l'incarico che mi hai proposto tu Germano e il presidente Giorgio Maggi è stata una grande opportunità è un motivo di orgoglio penso di aver ricevuto tanto dalla palacanestro e di continuare a ricevere tanto e mi piace la possibilità e lo vivo come un dovere il fatto di restituire qualcosa alla palacanestro soprattutto se posso farlo verso dei giovani dei giovani che crescono e quindi se io ripenso a quando avevo la loro età se avessi avuto la fortuna di avere un Luca Vitale qualsiasi o comunque ai miei tempi un giocatore di Serie A che veniva in palestra sapeva il mio nome mi consigliava vedeva dove sbagliavo o mangiava con me solo per quello avrei dato il 300% quindi io la vedo come da parte mia una cosa bella stimolante che sia Stefano e Alex sanno che ovviamente non toglierà energia a quello che è il mio ruolo da giocatore quattro e video unicamente da giocatore qua a Treviglio lo specifico onde evitare chiaramente non lo so altri tipi di pensieri quindi io sarò giocatore di di Blue Basket Treviglio e responsabile tecnico per quello che è la parte della federazione ho la fortuna che il programma che adottava gli allenamenti Alex e la società era prima che arrivassi io quindi non con il mio arrivo era già un programma stabilito in cui si svolgevano macro allenamenti e comunque andando dietro a quelle che sono le esigenze di Alex cercherò di conciliare quest'altro incarico per poter trasmettere ai ragazzi ed essere a disposizione di tutte le società sì vabbè ovvio noi il nostro club ha pensato a Luca per è un giocatore che ci è sempre piaciuto e per le sue caratteristiche e per gli obiettivi che oramai tutti quanti sanno siamo convinti che possa dare una marcia una mano per raggiungerlo poi per il secondo ruolo a noi non preoccupa diciamo è stata più una casualità che è arrivata un po' contemporaneamente no? un po' in contemporanea siamo arrivati e però vabbè noi è un nostro giocatore e fa piacere che lui abbia questo incarico per il suo futuro e per quello che sarà poi il suo proseguo in tutta la sua carriera un ruolo in un'intraccia comunque non penso che possa intracciare tra l'uno e l'altro lui è qui per giocare non vediamo l'ora di vederlo giocare e via l'uno e l'altro